Medief Italia è un'azienda dinamica, un'azienda che esporta in tutto il mondo i propri prodotti, prodotti di design e se devo pensare a un aggettivo che rappresenta l'azienda penso all'innovazione, innovazione a livello di materiale e a livello di prodotti che ci permettono di creare dei prodotti che non sono per nulla scontati e che vengano riconosciuti dal mercato. Allora tre aggettivi se penso a random comunque associandola un po' all'arte è quasi una scultura, quindi direi scultoreo, se penso al divano Thea è un divano molto femminile, la femminilità è una cosa molto importante per quel divano, è una caratteristica fondamentale quindi direi femminile e se penso alla nuova serie di Xavier Lust, la Lust Chair, penso al termine innovazione quindi innovativo proprio per via del materiale che gli permette con una leggerezza tale da poter comunque stare in piedi e supportare il peso di chi ci si sente. Allora se dovessi associare questo prodotto a un cibo l'associerei sicuramente al sushi in quanto è un prodotto molto decorativo ma allo stesso tempo essenziale che parla da solo e in tutta questa sua complessità però è anche un prodotto a prima vista semplice. I have chosen emotion because of the new sofa Tia and the color is yellow. because it's classic, sophisticated, strong and also sexy. I connected our shelf random to art because it is like a painting, the more goods or books you put inside, the more it becomes your personal piece of art at your home. Io partirei con una piccola provocazione, non credo di dover convincere nessuno ad acquistare questo prodotto perché è un prodotto che da dieci anni da quando è stato presentato si è imposto nel design, nel mondo del design lo troviamo pubblicato sulle riviste, lo troviamo negli annali, lo troviamo sui libri è un prodotto iconico per l'azienda e per il design adesso con l'inserimento del colore credo che lo stiamo, l'abbiamo reso ancora più moderno di quello che già fosse e può essere quasi paragonato a un'opera d'arte moderna adesso. Grazie a tutti.